Eccoci qui, la pasta è pronta, l'abbiamo scolata. Adesso stiamo aspettando che il nostro olio si scaldi un attimino per metterci la nostra polvere di peperone tostato. Guardate, si è sciolto anche il nostro anioleofilizzato, perché questa è la bellezza. Ok, adesso prendiamo la nostra polvere e iniziamo a mettercela. L'oro rosso della basilicata, che è anche detto. Perfetto. Adesso prendiamo la nostra pasta e ce la facciamo dentro. La basilicata si fa per bene, in modo tale che si condisca per bene. Bisogna andare dopo che vi faccio vedere come si impiatta. Grazie. 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 Grazie.